L'automiglioramento è masturbazione, invece l'autodistruzione è... ...e' inutile. Mi ha scavato la forza di me, adattarci i miei, il vero, ...e' inutile, 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 inutile. Mi ha preso prodotti, mi ha preso prodotti, ma non è solo prodotti, ma non è che la linea! La gente parla, dice una scritta, dispo, non è che capire cosa è- sin Independenti lì, di manifestare la scuola, ...e' inutile, 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 un vero, Wai dia a voldarla, da solo! Mi ha preso prodotti, mi ha preso prodotti, ma non è solo e s catalystare la scuola, ...fatto a fuori, veng bastante i miei, il vero, Non c'è solo, non c'è solo, nessuno aiuterà Stai morendo A presto Grazie a tutti. 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 E a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E a tutti. E a tutti. E a tutti.